Altra battuta d'arresto alle urne per Angela Merkel in una prova elettorale in basso a Sassonia, secondo gli exit poll, i socialdemocratici dell'SPD avrebbero battuto la CDU della cancelliera tedesca. Il partito di Martin Schulz avrebbe conquistato il 37-37,5% dei voti contro il 35% della CDU, secondo i primi risultati. L'estrema destra della FD si è fermata al 5,5%, raggiungendo comunque l'obiettivo di entrare nel Parlamento regionale. Ora complessivamente il partito ha seggi in 14 dei 16 Parlamenti regionali tedeschi.